Fatevi il segno della croce, allenatevi il più possibile, ahimè per noi amatori preparare un Ironman è... Andrea con il caldo la telecamera si è rifiutata, le telecamere si sono rifiutate di funzionare, comunque oggi ci è stato chiesto di parlare della corsa all'interno del triathlon, sappiamo che Andrea, non tu, Andrea Secchiero, nazionale triathlon, corre con noi, con te, cosa ne pensi della corsa nel triathlon? Allora, ciao a tutti intanto, la corsa nel triathlon è un argomento un po' strano, sembra quasi che chi fa triathlon non dia così tanta importanza alla corsa come invece secondo me dovrebbe darla. Ho visto spesse volte allenare la corsa con pochi volumi e ritmi folli per poi i ritmi che poi terremo effettivamente in gara. E quindi che consigli daresti ai triatleti, so che ne alleni qualcuno per migliorarsi nella corsa? Allora, intanto secondo me, come ho detto prima, bisogna stare sempre attenti ai volumi, ricordarsi che comunque dobbiamo correre magari 10 km di corsa a fine gara, quindi dopo aver fatto nuoto e bici, sono sempre 10 km, quindi vanno allenati come se fossero delle 10 km su strada normalissime, contando che avremo del sovraccarico e della stanchezza prima, quindi secondo me ha senso invece che fare magari un 3x3000 classico a ritmo gara di 11 km secco, magari di farlo anche magari un pochino più lento e ad aggiungerci qualche ripetuta, quindi magari un 4.000 e due volte 3.000 o un 4.000 a ritmo gara di 10.000 vero, più 2-3.000 a ritmo indicativo del 10.000 che terremo a fine gara triathlon per dire, quindi sicuramente invece che andare a fare dei lavori troppo brevi che non rispecchiano poi la vera distanza di gara, andrei a lavorare un po' più sui volumi e sulla tenuta perché poi alla fine quello che ci mancherà sarà la brillantezza e la tenuta. Quindi vedo che molti atleti, triatleti, corrono, prediligono l'intensità rispetto al volume, tu cosa ne pensi? Penso che quando vedo, mi chiedo il perché, quando fanno 20 minuti di fartlek ha praticamente un ritmo medio più forte di quello che poi terranno in gara, secondo me non ha senso in quel caso invece andare a fare magari 50 minuti di fartlek se è la durata della gara. Se devo fare 10 chilometri secchi in 40 minuti per un amatore, secondo me più o meno ci metterà 46-47 minuti circa su una 10 chilometri del triatro, poi più o meno lunga o ondulata, andrei a lavorare su dei fartlek quindi di quella durata. Secondo me ha più senso ed è più allenante, ci stressa il corpo come se dovesse essere una gara. Invece per il triatleta che dovesse fare la distanza olimpica, quindi appunto di corsa, dovesse correre 10 chilometri, cosa suggerisce? Te l'ho detto, secondo me di allenarla come se fosse una 10 chilometri secca, sapendo che comunque quando dopo andrà in gara non potrà tenere quei ritmi lì, quindi dovrà tenerli un attimino più lenti. Però se io mi alleno per una 10 chilometri secca, sicuramente è meglio che allenarmi per un 5.000 e poi andare a fare un 10 chilometri in un triatrono olimpico. Quindi preparazione da 10 chilometri, magari avrebbe senso preparare una 15 chilometri nella corsa e dopo tenere quei ritmi per i 10 chilometri del triatrono. E se invece il triatleta dovesse correre il 70.3, quindi sulla corsa fare la mezza maratona, che consigli e che accortezze gli daresti in settimana? E stessa cosa di prima, di preparare una 21 chilometri o meglio una 30 chilometri, perché comunque il ritmo che terrò sui 21 chilometri, si spera che se non mi sono spremuto troppo nel nuoto, ma soprattutto nella bici, sia quello di circa una 30 chilometri. Soprattutto perché allenare una 30 chilometri mi potrebbe dare comunque quella resistenza che poi mi devo portare in gara per fare 21 chilometri da stanco. Quindi non è una mezza maratona che faccio brillante, secca, con due chilometri di riscaldamento di corsetta. Sono già arrivato con 90 chilometri di bici e quasi due chilometri di nuoto, che sono già bello sfiancato, non nelle condizioni migliori possibili, perché starò correndo con un body, eccetera, eccetera. Quindi secondo me ha senso allenare una gara più lunga. Al contrario di quello che vedo da fare da tanti, che sembra quasi che preparino una 10 chilometri per provare a fare una mezza maratona in gara. Quindi fondamentalmente dopo scoppio faccio tutti i 5-6 chilometri camminando, che secondo me non ha senso. Andiamo a preparare una 30 chilometri e la 21 chilometri poi ci sembrerà comunque lo stesso la 30 chilometri, ma saranno pronti per farlo. Quindi quanti allenamenti imposteresti per questo mezzo Ironman? Contando che c'è la bicicletta che comunque ci può dare una mano dalla parte aerobica e anche il nuoto, comunque non ne farei meno di tre alla settimana. Poi siamo sempre lì, dipende che atleta siamo, se abbiamo la possibilità di doppiare, eccetera, eccetera, e qual è il nostro sport dove siamo messi peggio. Sicuramente almeno due o tre allenamenti a settimana di corsa li devo fare, magari tenendomi la bicicletta per il weekend. E i tre allenamenti o due allenamenti a settimana di corsa come li imposteresti? Guarda, forse farei lo stesso un mezzo lunghetto variato il sabato per la bicicletta, in settimana invece farei sempre delle variazioni di ritmo, magari a ritmo gara e un medio, diciamo. Poi dipende sempre da cosa ho fatto nel nuoto o nella bicicletta, perché non posso fare ripetute di nuoto, ripetute di bici e poi ripetute a corso, quindi bisogna anche un po' valutare la settimana. E quali sono le caratteristiche che ti spingono a decidere il giorno stesso se allenarti intensamente oppure no? Per me è la programmazione degli allenamenti, perché se ho fatto una giusta programmazione con carichi e scarichi, a meno che mi sia successo qualcosa di brutto durante la giornata, di solito dovrei essere pronto per allenarmi o forte, o in quel caso avere un recupero, perché ho fatto già forte nei giorni prima. E ultima domanda, se invece dovessi preparare un Ironman, che consigli potresti dare? Fatevi il segno della croce, allenatevi il più possibile. Ahimè, per noi amatori preparare un Ironman è un po' un terno all'otto, perché è davvero una gara talmente lunga, talmente dispendiosa, che prepararci bene è quasi impossibile. Quindi potremmo fare delle buone gare, ma fondamentalmente è uno sport per professionisti, che riescono ad allenarsi decentemente e arrivare a fare la maratona tutta correndo. Io credo che sia abbastanza difficile in generale correre una maratona, correre una maratona dopo 180 km di bicicletta mi viene il vomito solo a pensarci. Quindi alleniamoci tanto, prepariamo una maratona, sarebbe top fare l'Ironman post preparazione maratona, perché sono già più o meno preparato. Sì, in effetti comunque è davvero molto difficile, la complessità è più di tre volte, e già mi verrebbe sicuramente un pensiero a capire come impostare gli allenamenti. Comunque grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong! Ciao alla prossima e mi raccomando i caffè che abbiamo sette di scarpe. Ciao! Ciao, grazie!